Continuiamo il nostro discorso annoso, annosissimo, sono decenni che se ne parla perché avevamo appunto detto, così segnalato che alcune informazioni non possono essere generiche. Com'è il mare, calmo o mosso, vi ricordate? In realtà calmo o mosso sono alcuni livelli, quindi lo stato del mare, il vento hanno dei gradi diversi e quando bisogna descrivere un fenomeno, quindi se è per fare la nostra gita, ditela anche in maniera approssimativa, ma quando si parla di situazioni che possono essere critiche è importante avere l'esatta misura del fenomeno. Perché se no ci si perde, o ci si preoccupa troppo o non ci si preoccupa abbastanza se usiamo le parole, i numeri, i livelli, le definizioni sbagliate. E questo è, come appunto abbiamo visto, è la parte che riguarda la definizione dell'intensità del vento e dello stato del mare. Si usa, sentite dire, anche da chi non dovrebbe dirlo perché dovrebbe essere più attento forse, mare forza 5, mare forza 7, sono termini impropri perché attribuiscono una definizione del mare che è del vento. E non sono, ve lo faccio vedere proprio, me lo faccio toccare con mano, sono due cose diverse. Intanto teniamo conto, perché anche questo conta, che l'altezza dell'onda è dovuta all'intensità del vento, e questo insomma ce l'abbiamo come concetto, alla durata del vento, e questo è un po' meno immediato, perché se c'è un vento molto forte, il moto ondoso non diventa subito forte, ci mette molto tempo, ci vuole tempo, ci vogliono ore, il che in certe situazioni non è indifferente. E la durata del vento, quindi il vento forte, per molte ore alza un mare, un moto ondoso forte, se il vento continua a essere forte, se è forte per pochi minuti non riesce a creare onde significative, quindi la durata sono tre i parametri del vento, l'intensità, la durata, e poi c'è il fetch, cosiddetto, cioè la distanza su cui soffia il vento. Allora, anche questo l'abbiamo già usato, ma me lo tengo caro, perché rappresenta bene il concetto di fetch, vediamo il quadro, che ci dice che a seconda della direzione del vento, in questo caso il vento è da sud-ovest, Allora, prendiamo l'alto adriatico, questo sud-ovest comincia a soffiare dalla terra e soffia per una distanza di mare di 100 km, 150 km, non moltissimo. Quindi, per quanto possa essere forte, non ha lo spazio per soffiare a lungo sul mare. Voi dovete pensare all'onda come avete un tappeto, lo spingete con la mano, si formano quelle ondine. Ecco, il vento è uguale, però il vento non è una mano, non è il tappeto. Quindi, guardate questa distanza, il sud-ovest che parte dal nord-Africa, attraversa il Mediterraneo e arriva Liguria di Levante, Alta Toscana. Eh, qui sono migliaia di chilometri. Il vento, se mantiene la sua intensità, ha tutto il tempo per alzare, far alzare un moto ondoso significativo, che non è infinito, è proporzionale alla intensità del vento. Però i tre parametri ci devono essere, se no non si capisce che onda ci può essere. Bene, veniamo all'altro quadro. Questa è la scala Beaufort, scala della forza del vento. Ed è quella che non sempre sappiamo la definizione esatta, però, allora, un vento forza 3 è una brezza tesa, il vento forza 5 è un vento teso, vento forte, burrasca, burrasca forte, tempesta, fortunale, uragano. Forza 12 di vento, sono venti superiori ai 60 nodi, che significa più di 100 chilometri all'ora. Il vento viene definito dalla sua direzione, ovviamente, e dalla sua forza, cioè dalla sua intensità. Altra cosa, e questo è il punto cruciale, altra cosa è invece lo stato del mare. Perché, vediamo il quadro successivo, la scala Douglas non è della forza del mare, perché c'è ma il mare è forte, sì è forte, ma non si chiama forza, si chiama stato del mare. E va da 0 calmo, cioè 2 poco mosso, 4 molto mosso, 5 agitato, fino a 9. Allora, vediamo insieme le due scale e capiamo perché non si può fare confusione fra una e l'altra. Perché la forza va da 0 a 12, lo stato va da 0 a 9. Questo che cosa vuol dire? Che un vento forza 5 non alza un mare 5, ma sempre fra 4 e 3. E lo stesso vale, perché qui ci sono 12 livelli con lo 0, 13. Qua ce ne sono 9 più lo 0, 10, quindi le due scale non corrispondono. Quindi vento forza 7, non è un mare 7. E dov'è allora? Dice, ma è una pignoleria. Come sempre, le pignolerie hanno a che fare con la realtà. Ora, voi se state a casa e dovete sapere dove andare in vacanza, potete anche essere approssimativi. Ma voi pensate, nella situazione tecnica di una barca, di una nave, che chiede a un porto qual è la situazione, perché deve decidere se entrare, che è il momento più rischioso della navigazione in porto, non sembra, ma lo è, o decidere di magari andare in un altro porto con tutto quello che ne consegue, pensate a una nave da crociera, ma anche voi con le vostre vacanze, invece che scendere nel vostro porto dovete andare da un'altra parte. L'informazione che vi arriva non può essere che situazione c'è, ah, c'è un mare forza 5. Voi, che avete seguito tutte queste delucidazioni che vi ho dato io, vi dovete chiedere, che vuol dire mare forza 5? È un vento 5, quindi con un mare 3, e allora posso entrare? O è un mare 5, e allora non posso entrare? Perché guardate che fra un mare 3, io adesso non vi ho messo l'altezza delle onde in metri, che l'abbiamo vista altre volte, ma fra un mare 3 o un mare 5 ci sono diversi metri di altezza dell'onda di differenza. Metri di onda non sono bruscolini. Quindi, per l'informazione, che deve essere corretta secondo me, per la sicurezza non dobbiamo confondere la forza del vento con lo stato del mare, perché si corrono dei rischi e come minimo si dicono delle cose non corrette e in base a quelle poi si giudica se ha fatto bene o ha fatto male quella nave, quella barca, a fare questo o a fare quell'altro perché c'era un mare o un vento, ecco lì è importante. Quindi, prima sappiamo, conosciamo bene i termini e poi diamo i giudizi. Sarebbe meglio. Alla prossima.